Dieci anni fa, Kate Middleton ha sposato il principe William all'abbazia di Westminster, e a guardarli, c'era tutto il mondo. All'epoca, sembrava il momento fantastico di una favola di vita principessa. L'abito di Alexander McQueen, la chiesa gotica, le carrozze trainate da cavalli, il grande bacio sul balcone di Buckingham Palace. Ma, naturalmente, le favole non sono semplicemente favole. Nemmeno per il futuro Red Inghilterra. Nella realtà, Kate e William hanno avuto un lungo, lungo viaggio prima di diventare marito e moglie Kate Middleton senza il marito William. La principessa del Galles è costretta ad affrontare la sua seconda apparizione pubblica dopo la diagnosi di Cancro, senza l'erede al trono, che in questi mesi è stato un pilastro importante per la 42enne. Kensington Palace ha annunciato che Kate presenzierà alla finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic per consegnare i premi. Un compito che svolge ormai da anni, senza dimenticare che la Middleton è madrina dell'Ally England Club, ed è una grande appassionata di tennis. La principessa del Galles sarà presente alla finale del singolare maschile. È il comunicato piuttosto breve diffuso da Palazzo. A quanto pare Kate si sente abbastanza forte da tornare nuovamente in pubblico, anche se le cure contro il tumore vanno avanti. Wimbledon è il secondo evento pubblico, a cui partecipa Kate Middleton da quando ha scoperto di avere un cancro lo scorso gennaio dopo un'operazione all'addome, abituata ad appoggiarsi al principe William, come ha fatto lo scorso giugno, al Trooping the Color. La sfilata per il compleanno direi, Carlo questa volta Kate dovrà affrontare tale impegno senza il marito. Il motivo? Mentre la principessa sarà a Londra, William, in qualità di membro della Royal Family, ma anche perché presidente della Football Association, volerà a Berlino per sostenere l'Inghilterra nella finale degli europei contro la Spagna.